Stiamo parlando di un calcio ancora non professionistico. Una calciatrice di serie C purtroppo ancora non vive con il calcio. Cerchiamo di imbarparla e andiamo a far gole. È il momento nostro, è il momento posto. Tu puoi sbagliare 100 tiri e sbagliarne altri 100. A me secondo me mi interessa zero. Le bambole io le usavo semplicemente per calciarle e basta. Il presidente non voleva una ragazza di squadra nel settore giovanile. Ho iniziato quando ero una bambina a sei anni. L'uomo ancora deve essere virile per giocare a calcio. La donna gioca a calcio. L'obiettivo è vincere il campionato. L'uomo ancora deve essere virile per giovanile. Grazie.